Onorevole Castiglioni, Berlusconi incontra Maroni, l'accordo pare sia stato fatto e il candidato premier sarà Alfano? Mi pare che sia un accordo che era nell'ordine delle cose, un accordo che privilegia la consistenza politica del PDL ma soprattutto anche l'alleanza politica con realtà territoriale molto forte sia al nord che al sud quindi con la Lega Nord e con un coordinamento di liste civiche al sud, quindi un accordo per dare forza ad un'area politica, quella dei moderati che abbiamo tentato sempre di ricostruire Berlusconi è il capo della coalizione, Maroni è candidato in Lombardia ma soprattutto non sarà Berlusconi il premier per la prossima legislatura quindi dando spazio per quanto ci riguarda il PDL, dà spazio ad Alfano, candidato premier quindi un siciliano per noi rafforza quell'offerta politica, dà forza al progetto e soprattutto noi auspichiamo di vincere l'elezione e di avere un siciliano al governo del paese Guardando alla Sicilia c'è stato già un accordo tra Berlusconi e Miciche ma adesso notizia di ieri è che Cimino ha rotto questo accordo invece all'interno di Grande Sud con Miciche non ha nulla di politica la motivazione di Cimino, è un piccolo interesse personale nella vicenda del sostegno al governo della regione quindi invece la sostanza è l'accordo con realtà territoriale radicate sul territorio con Grande Sud ma soprattutto con i governatori dell'Italia meridionale con Caldoro, con Scopelliti, con la realtà politica della Polibortone quindi una realtà molto significativa al sud e la Lega al nord per dare forza per rilanciare il progetto e soprattutto a mio avviso giorno dopo giorno dopo le lunghe distanze mi pare che tra la coalizione di centrosinistra e la coalizione dei moderati dall'area di centrodestra mi pare che si accorce ogni giorno ormai siamo a 7-8 punti, io ritengo ci sia il tempo sufficiente per rimontare, per rilanciare, per non avere al governo del paese qualcosa che abbiamo già visto l'accordo tra PD e SEL, le dichiarazioni di vendola di ieri non lasciano presagire nulla di buono per il governo del paese la gente ha percepito, comprende e quindi io ritengo che noi vinceremo in questa occasione dell'elezione